salve a tutti noi certissimi e benvenuti in questa nuova serie incentrata su capped non sappiamo giocare quindi... dobbiamo cominciare da qua a capire come si fa allora nuova partita tu vuoi essere il rosso o il blu? non lo so la differenza è solo d'immagine si penso che si allora vada per rosso fatto per l'occhiolino comunque questi sono due topolino fatti con la testa diversa se c'è una cosa su al senno non bricons in che in piccio vi siete cacciati ragazzi miei non vorrete non vorrete certo diventare pedine di satanasso ma se rifiutate tremo tremo immaginare il mio se destino per ora dovete restare al suo gioco raccogliete quei contratti, imbuccatevi le maniche e preparatevi al peggio gli altri indebitori non vi accoglieranno certo a braccia aperte anzi temo che siete assolutamente in velve paurosa e prendete questa funzione per difendervi l'idea il miravolanti abilità magiche l'idea del mio usate il magico calamaio deve preparare a minare le mani minchia basta con parlare alla serie alla come si spara vecchi anna stascia un tutorial se non mi sbaglio nasce eccolo qua tutorial vai pro fai due tutorial ok tutorial farlo tu guardiamo un po' dovrebbero essere questi i tasti giu su destra e sinistra spazio per saltare per scattare devi cliccare maiuscola maiuscolo ah si quindi c'è tu salti e clicchi maiuscola no ma non penso guarda si guarda chi scatta ma incursa avanti non fai il doppio salto ah scelta eh ho superato il pulsante ah ok puoi spara e la x si infatti cheer blocca ah blocca che ti riprodo così ah ok per direzionare di qua devi cliccare cheer 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 e poi questo ah in direzione così spari verso l'alto verso il basso e ma devi direzionare con i tasti no con cheer devi direzionare questi così con questi due in modo che tu vuoi sparare si e poi la x quindi devi allontanare ok cheer qui i due pulsanti e x ecco qua ah è così bam wow grande quello che hai detto io non ci sono riuscito e segui una parata sul fantasma del tuo compagno per rianimarlo ah forse devi fare quella roba rossa no 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 su di lui devi fare quella a pugno ecco qua l'hai rianimato no devi fare il doppio salto guarda ok aspetta che arriva posso stare qui solo qua no ecco qua l'hai rianimato abbiamo rianimato ok poi moh sex un attacco potenziato che richiede una carta sulla super barra quindi questo devi cliccare qui ah è così tu salti ok abbiamo posto raccogli una moneta ok uscita z ok ok più o meno hai capito chi serve se vabbè io sai che c'è un no no mi serve solo un po' di pratica però esci ci siamo ci sei più o meno si esci sei meglio questo più o meno si ma la fa bellissima ora dove ci vogliamo direzionare ma dirti non so ponte ponte c'è questo signore mettiamolo e io ho saputo che ve la pasta è brutta eh anche vero così quindi sempre a cacciarmi dei pasticci a correre saltare sparare ora preferisco far quattro passi e andare al cinematografo dal cinematografo ma sarò lieto di darvi una mano ecco qua te li morire grazie che ma fa shop allora questo cos'è un orticello gli ortaggiosi mettiamo la difficoltà normale panico botanico vai parti tu che devi imparare mh ah devi sparare devi combattere subito salta 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 ai ai spara 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 salta sei morto mamma cazzo fa una alla volta ops vai vai allora è un po' difficile perchè io volevo giocare con ma pure un vero visto guarda fin quando è così è facile finì schiacciato per sparare raffiche eh però comunque oh ma sta morendo dimmi che eh si ah ah un altro ah cipolla un cipollino che fa piangere cipollino che vuoi fare che vuoi affrontare ah ti colpisce con le lacrime devi scansare eh tu 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 no sono morto vai fai tu allora dai va te guarda c'è un progresso che riesce ad ucciderla anche se muori però riesce ad ucciderla cioè dico a piccoli passi e ci metto un po' più tempo ok mo cipollino 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 ah 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 mhm è una simpatica pensata questa gioco eh no pure come è strutturato la cipolla che piange è simpatico stai zitto schifo di carota guarda non facci smadonnare che non possiamo dai 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 eh guarda quella manco schiatta no è che lei il terzo è dura a morire eh che cacchio ho fatto si 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 piangi adesso piangi piangi schifo disperati ah ah e la prima mi sento soddisfatto ci abbiamo messo un minuto ah pensavo di più no no minuto in tutto il minuto per questa partita questa su ultima sessione mi meno va mi va bene comunque si allora dovevamo fare così dovevamo conservare i power up per l'ultimo ah infatti guarda vedi questo l'abbiamo sbloccato su abbiamo avuto il primo contratto di anima ok quello che lui c'ha chiesto prendi tutti i contratti altrimenti lo porto ok quindi procediamo facciamo l'ultimo boss per questa puntata e vediamo che ci aspetta ah ma questo dove mi porta vediamo batracci ah questo sarà un altro boss pugnaci pugnaci oddio ah wow questo ancora ha fattorato rix ah bellissimo tata 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 le rane no questo mochinsè queste ma lo sapevo ucciole di milma ah beh un colpe agli sciotti quindi ah 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 pugni oh mamma di se no questo è già più difficile vabbè io ho visto il video di ratorix non so farlo benissimo però avevo più o meno capito qualcosa ah no no ah ah mamma mia ah che sto facendo qualcosa guarda quello che giro ah 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 i boss sono sono difficili ma sono corti sei andato bene comunque io vado una molnezza ready valopp cos'è valopp vabbè ma stavolta no tu però guarda vuoi anche fare la tecnica che stai fermo e li schivi dai vai riprova 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 capire mo stavolta quando si gira la carta usala subito salta vai oh difficile eh la so abbastanza difficile mi sei molto pratico e io l'ho fatta alla primo colpo che lo stavo per fare no dai luciolede lucioloidi ah ah quella viola vuol dire che c'era qui dai dai uccidiamole dai 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 muori rana eh uai vediamo quando sono arrivato uai la torre rana la torre serpente è fatta capire perché abbiamo capito come si fa invi no allora vabbè forse vabbè ho capito forse ho capito come dobbiamo fare con il leone quando ci capita stavolta non dico che mi sento che è quella buona però ho capito come se ci arriviamo ho capito come dobbiamo fare ce lo dobbiamo fare e poi c'è non possiamo fare una puntata ogni giorno no no ce l'abbiamo a fare stiamo già penso da un'oretta a registrare poi dicono che i youtuber non fanno niente vabbè non mi fa male wall esiste lo sforzo che si sta attaccando wall ahahah c'è nel senso vabbè ci stavo a sfocare ma te dico che mi sento i videogiochi fanno sfogano la rabbia o la fanno venire due sono le possibilità la fanno venire e poi ti sfoghi quando le dico le allora vediamo di non vediamo di fare vediamo di iniziare bene allora per favore per favore gesù Gesù grande grande dio Ok, la prima è andata Se ci dè serpente ti giuro è fatta Toro, toro di nuovo, toro di nuovo Giù, su Giù, su Su Oddio, oddio, ce n'è un altro Per favore, per favore da Mirana ti supplico, non leone Toro, 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 però sia Giù, su Abbiamo vinto, abbiamo vinto Sì, sì Non squittire Mamma mia Se, se, toro, toro, toro Ma tre tori Mamma mia, cazzo, una vita tenevamo Una vita tre volte Toro, toro, toro Io mi stavo cagando addosso perché ho visto che hai visto che hai il secondo ancora una volta Vabbè, fatta Allora Dove riprendiamo un po' il sangue Saludiamo la tazza Spero che questa prima puntata mi sia piaciuta Adesso mi ha fatto passare a incazzare Per ora mi sento proprio bello Un po' soddisfatto Primi tu e boss andati Ma rovati tu non so quanti boss Ma almeno i primi due li abbiamo uccisi Perché non ti sa quanti sono? Quindi, eh no No, non lo so io Perché non c'ho mai giocato Quindi allo spero che questa prima puntata Se mi piaciuta se mi piace lasciate commentate e condividete Alla prossima puntata Alla prossima puntata